Pronto? Sì, vado. Allora oggi di cosa parliamo? Parolone inglese, problem solving. Cosa è il problem solving? No, me ne vado. No, l'ho fatto ancora. Il problem solving è sapere risolvere i problemi. Quindi, quando dovete lavorare, dovete sapere risolvere i problemi. Quindi, nello sport qua, iniziamo a imparare a risolvere problemi. Non di matematica, ma problemi che si fanno sia negli allenamenti, quindi sia nel nuoto, che nella corsa, che nello stretching, nel potenziamento, nella bici. E sia per chi vorrà fare, poi, chi vorrà affrontare questa caretta di triathlon, qualcuno la farà per la prima volta, dovrà risolvere dei problemi. E quindi sarà un momento di crescita per il vostro cervello. Perché dovete prendere delle decisioni da soli. E vietate i genitori, l'aiuto dei genitori, sono a cambio, dapportutto. Quindi sarete da soli a fare il giusto o a sbagliare. Perché sbagliandosi impara. Sbagliandosi impara. Forse. Si perde. Le femmine. Come vanno le femmine in gara di triathlon? Vanno molto piani. Aspetta. Le abbiamo viste nella gara. O voi in gara, andate fortissimo. Le femmine in gara. È vero che vanno pianissimo. Ma veramente, Elisa, avete visto come va Elisa? Ha superato quattro femmine, che è lentissima, Elisa. Avete visto quanto è lenta? Elisa, mia figlia. In gara? Si, ha superato quattro femmine, cioè vuol dire che proprio le femmine vanno pienissime. Quindi, allora, cosa dobbiamo fare in gara? Un progetto. Non possiamo partire così a cavolo. Quindi io vi dirò, vi dirò io, persona per persona, come dovrete fare il nuoto. Lento, veloce, come nuotare. Il cambio, perché il nuoto dura circa, a seconda delle categorie, dura circa un minuto o due minuti il nuoto. Attenzione, il nuoto dura un minuto o due minuti. Poi c'è il cambio. Il cambio dura di nuovo un minuto o due minuti. Quindi quanto è la frazione di nuoto? Pensa quanto puoi guadagnare nel cambio. Poi c'è la bici che può durare dai 5 ai 10 minuti. Poi di nuovo hai due minuti di cambio, di zona cambio, che scendi, corri. E poi fai la corsa. La corsa si farà qua davanti, in questo prato. Quindi tutti i genitori vi potranno vedere. Cosa c'è di bello nella gara di triatlo qua in traacque? Che la gara la puoi vedere dall'inizio alla fine. La bici, i genitori ti vedono passare là. È l'unica gara dove puoi vedere tutto. L'unica gara veramente in Italia dove puoi vedere tutta la gara. La bici vi vediamo passare là. La corsa vi vediamo correre qua. La piscina vi vediamo. Quindi sarà chi, per chi la farà, sarà un bel regalo da fare i vostri genitori. Che vi vedranno all'azione, appunto, a risolvere i problemi. Quindi io vi dirò, vi darò un compito. E voi in gara dovete, chi la farà la gara, dovrà semplicemente fare questo compito. Non vi prendete paure, andrò forte, andrò piano. Io faccio il mio compito, farò quello che so fare, né di più e né di meno. Farò il mio compito. Quindi oggi proviamo, abbiamo fatto la tingle di corsa e adesso proviamo, ci dividiamo in due gruppi. Un gruppo proviamo un po' di cambi qua fuori e l'altro gruppo comincia ad andare a nuotare con Simo. Simo, mi fai fare il cambio corsia? Allora, un altro gruppo. Aspettate, il ritmo gara nel nuoto. Come vi imposto il ritmo gara nel nuoto? E' meglio fare il cambio. Difusione della respirazione. Puoi andare più forte? Vado più piano. Quindi il ritmo gara nel nuoto. Non muovo le braccia così, senza respirare. Anche nella corsa. Anche nella bici, le pedalate. Quattro pedalate e una respirata. Quindi, dobbiamo trovare questo ritmo. Ed ecco perché a fine giornata poi faremo un ballo. C'è la festa di Anna che ci ha provato la merenda, gentilmente. E faremo due balli a fine giornata. Anguria e quant'altro? Dobbiamo mettere la festa. Per Samuel. Allora, Samuel ha dimenticato il costume in piscina. Ma bravo Samuel, bravo. Vi ho portato una maglietta per Samuel. E poi anche un costume per Samuel l'ho portato. Guardate. Come hai il costume? Un po' piccolo. No! E' giustissimo! Va benissimo! Se non lo vuole me lo regaglio a me, Bertha. Bertha, Bertha, fai un po' vedere la maglia. Fai un po' vedere la maglia. E poi anche per Samuel. Un super... Anche perché l'altra volta non sono venuto in piscina. E se, è per quello. E poi anche gli occhialini. Ma Babbo che aveva bisogno. Gli occhialini puoi mettere direttamente sopra gli occhiali da vista questi per nuotare. Sì, ma Babbo che aveva bisogno. No, va bene. Bertha non mi dai a me. Vuoi un paio di svedeti? Ce l'hai? Sì, sì, sì. Ce l'hai? Ce l'hai? No, io, 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 io. Chi è che non hai gli svedeti? Io! 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 Ero solo un paio. Ero solo un paio. Ero anche il chi spara. Va bene. C'è tutto allora. Se il costume non lo vuole Samuel lo prendo. C'è tutto. Allora. Io prendo la maglia. Berta. Ferma, ferma, stoppa. Allora in piscina.